La Procura della Repubblica di Catania ha emesso tre provvedimenti nei confronti di tre persone di Paternobel Passo e Biancavilla, diverse e gravi le accuse. Una maestra di Biancavilla è stata indagata per maltrattamenti e interdetta per un anno dall'insegnamento e accusata di avere picchiato con schiaffi e pugni alcuni alunni, offendendoli e mortificandoli ad incastrare la donna anche le telecamere piazzate in classe. Operazione della Polizia contro il clan Cappello Bonaccorsi, manette e l'organizzazione dedita al traffico e spaccio di droga. Si chiuderanno entro domani le liste per le elezioni regionali, problemi in casa per la centrodestra e centrosinistra legati a liste e listini, Fava li accusa di infiltrazioni mafiose e viene querelato. Stanotte alcuni ladri sono entrati nella chiesa di San Paolo ed hanno rubato un mixer ed aperto il tabernacolo. Una due giorni, sabato e domenica prossimi, per recuperare l'antica tradizione dei Cantastorie a Paternò, al piccolo teatro di scena nel fine settimana, il Festival dei Cantastorie, presentato oggi in conferenza stampa. Termina 0-0 il match di ritorno degli ottavi di Coppa Italia tra Paternò e Bianchevilla. I paternesi, in virtù del successo ottenuto all'andata, staccano il pass per i quarti di finale. Buonasera da Ciac News, in apertura questa sera tre diversi casi di cronaca consumati sia a Paternò, Belpasso e Bianchevilla, diverse, dicevamo, e gravi. Le accuse, sentiamo il servizio. Ancora violenza sulle donne e ancora un marito che tenta di uccidere la propria compagna. Questa volta l'orrore si è consumato a Belpasso, dove un uomo di 29 anni ha tentato di strangolare la sua compagna, una donna di 39 anni, con una cintura. A svelare l'ennesima storia di violenza sono stati i medici dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, dove la donna era arrivata accompagnata dal convivente. Per tentare di dare una giustificazione alle evidenti ecchimosi sul corpo della malcapitata, era stato lo stesso convivente a parlare, dicendo che la 39enne era caduta dalle scale. Come hanno riferito i sanitari, la donna era in stato confusionale, poco collaborante, con ecchimosi al collo e alla schiena in regione. Scattano gli accertamenti, i sanitari capiscono subito che quei segni sul collo erano stati provocati o attraverso un tentativo di strangolamento manuale o utilizzando forse una corda. Inoltre, la donna aveva delle escoriazioni ed ecchimosi alle ginocchia. Avvertiti i carabinieri sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo con l'accusa di tentato omicidio. A Biancavilla, l'attività di indagine dei militari dell'arma ha portato a scoprire un'insegnante violenta. Tutto nasce dai racconti degli studenti ai loro genitori che, allarmati dai pianti dei loro figli che lamentavano un clima di paura in classe, si sono presentati in caserma per raccontare ogni cosa ai militari dell'arma. Da qui è scattata l'attività di intercettazione e di riprese con la telecamera nascosta in classe per verificare l'atteggiamento dell'insegnante se quelle denunce avevano un fondamento. E i filmati avrebbero mostrato la cruda realtà con l'insegnante di 61 anni ripresa mentre minaccia, insulta, prende a schiaffi e anche a pugni in testa i bambini. La donna è indagata oggi per maltrattamenti, oltre ad essere stata interdetta per un anno dall'insegnamento. A Paternò, come abbiamo ampiamente annunciato nei giorni scorsi, in carcere è finito un ausiliario ospedaliero accusato di aver molestato una quindicenne ricoverato presso l'ospedale Santissimo Salvatore. E nel secondo servizio facciamo il appunto su uno di questi fatti di cronaca che riguarda quello della maestra di Biancavilla indagata per maltrattamenti e interdetta per un anno dall'insegnamento. Il servizio. Una maestra di 61 anni di Biancavilla è stata indagata per maltrattamenti ed è stata interdetta per un anno dall'insegnamento. Il fatto è accaduto in una scuola biancavillese ed è venuto alla luce grazie anche alle telecamere piazzate in una classe che avrebbero ripreso la donna durante le lezioni, intende ad attuare maltrattamenti e atteggiamenti mortificatori nei confronti degli alunni. È stata la procura della Repubblica di Catania a condurre le indagini delegata ai carabinieri della stazione di Biancavilla a conclusione delle quali è stata avanzata richiesta di misura cautelare interdittiva accolta dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti della insegnante accusata di continue azioni con una condotta che avrebbe umiliato i piccoli alunni. La maestra si sarebbe infatti rivolta agli alunni offendendoli, minacciandoli, prendendoli a schiaffi, sferrando pugni in testa, colpendoli in faccia e alla nuca e tirandoli per le braccia e per le orecchie. L'indagine è scaturita dalle dichiarazioni dei genitori di alcuni alunni ed è proseguita con servizi di intercettazione e con le riprese delle lezioni svolte in classe dall'insegnante indagata. Gli inquirenti evidenziano che una delle alunne, piangendo, ha confermato di aver ricevuto alcuni schiaffi dalla maestra e che spesso veniva picchiato anche un suo compagno di classe. Alla luce di tutto questo, ovvero della condotta violenta e offensiva dell'insegnante, della violazione dei doveri educativi e della mancanza di segni di ravvedimento critico, l'insegnante, come detto, è stata indagata per il reato di maltrattamenti ed è stata interdetta dall'insegnamento per un anno. Un 29enne di Calatabiano pregiudicato è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri della locale stazione in flagranza di reato per estorsione e maltrattamenti in famiglia. L'uomo, infatti in preda ad un raptus di follia legato all'esigenza di acquistare sostanze stupefacenti, ha picchiato la madre, 63enne, invalida perché affetta da cecità nel tentativo di sottrarle con violenza la collana, un braccialetto e la somma di 50 euro l'avrebbe colpita ripetutamente. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri chiamati da alcuni vicini di casa che hanno bloccato l'uomo. La 63enne è stata a soccorso dal 118 e accompagnata all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Operazione della Polizia a Catania contro il clan Cappello Buonaccorsi, manette organizzazione dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. I dettagli. Importante operazione della squadra mobile che alle prime ore del mattino ha eseguito 25 ordinanze di custodia cautelare contro altre tante persone indagate perché facenti parte di organizzazioni criminali dedicate al narcotraffico e allo spaccio. I gruppi operavano a Catania in provincia e potevano godere della vicinanza delle endrine calabresi ma anche di altri gruppi malavitosi di Palermo e Siracusa. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante di avere commesso il fatto agendo con il metodo mafioso per agevolare un gruppo riferibile al clan Cappello Buonaccorsi. Le indagini, durate circa un paio di anni, hanno dato agli investigatori uno spaccato dell'attività del traffico di sostanze stupefacenti a Catania e l'importanza del capologo etneo in tutta la regione per quanto riguarda la vendita di droga individuando più organizzazioni criminali siciliane e calabresi. Tra questi un gruppo criminale etneo capeggiato da Sebastiano Sardo, ora collaboratore di giustizia, al filiato alla clan Cappello Buonaccorsi, che non avrebbero esitato a sequestrare due persone ed anche un cane perché le partite di droga non erano state pagate immediatamente. Si tratta del sequestro di persone di un palermitano, Manuel D'Antoni, sequestrato a Palermo il 26 marzo 2015 e rilasciato dopo il pagamento di 16.000 euro e di un sequestro di persone avvenuto a Torveianica, in provincia di Roma, il 3 marzo dell'anno scorso, per un debito di 130.000 euro, i cui autori furono però arrestati la stessa sera a Messina. Gli arresti nell'operazione denominata Double Track sono stati compiuti nel Catanese a Messina e a Cosenza. Tra gli arrestati vi sono due donne, due le persone che sono riuscite a sfuggire all'arresto, sette ordinanze di custodia cautelare sono state messe nei confronti di altrettanti detenuti, mentre otto persone sono state poste ai domiciliari. La Commissione elettorale comunale rende noto che coloro i quali intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonei all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ne possono fare richiesta mediante domanda da inoltrare dalla 12 al 17 ottobre presso l'ufficio elettorale della Comune di Residenza nella domanda ai richiedenti che devono precisare cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita e devono attestare il possesso dei seguenti requisiti di essere iscritti nella lista elettorale del Comune, di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e di non essere candidato all'elezione, di non essere nonno, genitore, figlio, nipote o ancora fratello, sorella, suocero, genero, nuora o coniuge di qualcuno candidato alle elezioni regionali. E proprio delle elezioni regionali ci occupiamo nel prossimo servizio perché si chiuderanno entro domani pomeriggio le liste per le elezioni del 5 novembre, problemi in casa per centrodestra e centrosinistra per problemi che riguardano le liste elettorali o i cosiddetti listini bloccati. Claudio Fava accusa alcuni candidati all'Ars e viene querelato. E allora facciamo il punto nel prossimo dei nostri servizi. Sono iniziati stamattina e scadranno domani i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni del 5 novembre. Tensioni palpabili nei vari schieramenti e soprattutto nel centrodestra e nel centrosinistra, seppur per ragioni diverse, nella coalizione che sostiene Nello Musumeci il problema principale rappresentato dal cosiddetto listino, ossia i nomi di coloro che saranno eletti deputati regionali di diritto in caso di vittoria del candidato alla presidenza della regione. Qui il problema sarebbe l'ingresso nel listino di Gianfranco Micicchè al posto di Gaetano Armao che resterebbe escluso. Nel centrosinistra invece il problema riguarda le difficoltà a trovare candidati per la lista Micari Presidente Arcipelago Sicilia, Leo Luca Orlando, avrebbe consegnato una lista di nomi piuttosto ridotta chiedendo agli alleati uno sforzo per completare l'elenco. Sacrificio che il PD ha chiesto in queste ore a Rosario Crocetta e al suo megafono per un passaggio di candidati alla lista di Micari. Crocetta ha risposto dapprima con un no per poi ravvedersi man mano che la trattativa andava avanti, fino ad un sì ancora incerto ma comunque atteso a breve. Tutto confermato invece per Giancarlo Cancelleri, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, il cui arrivo è previsto a paterno nei prossimi giorni. Claudio Fava, candidato presidente per la sinistra, non le manda a dire e attacca Riccardo Pellegrino di Forza Italia e Luca Sanmartino del Partito Democratico, accusati da Fava di essere sostenuti anche da alcune personalità, per così dire ambigue. Accuse a cui Sanmartino ha risposto con una querela. Ho dato immediato mandato al mio legale di querelare Claudio Fava, ha affermato Sanmartino per le affermazioni false e ingiuriose che ha reso oggi alla stampa. L'ho querelato perché non gli permetto di ingiuriarmi con affermazioni tanto gravi quanto false, accusandomi addirittura di essere un referente di Cosa Nostra. E prima della pubblicità ancora un'altra notizia in breve. domani venerdì 6 ottobre alle 19 nella sala conferenza della Biblioteca Comunale di Paternò si terrà la presentazione della candidatura all'Ars di Gaetano Galvagno con la lista di Monello Musumeci, presidente. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. La nostra informazione riprende subito dopo. Abbatti la tua bolletta. Con un sistema fotovoltaico sul tetto della tua casa, puoi catturare l'energia del sole e utilizzarla per la tua abitazione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiave in mano 3.900 euro più IVA al 10%. Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiave in mano compreso solare termico con boiler 300 litri con formula ESCO totale 4.900 euro più IVA al 10%. Per azienda, impianto chiave in mano da 20 kilowatt, 20.000 euro più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure 340 33 57 408. Si eseguono manutenzioni, lavaggio moduli e controlli, oltre a forniture su impianti fotovoltaici esistenti. Energreen Power, con Trada 3 Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it E rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale Il maltempo, flagella in queste ore la provincia di Ragusa. Piove da ieri sera, dirotto e le forti piogge hanno creato notevoli difficoltà alla circolazione stradale e anche numerosi danni. Per fronteggiare le numerose richieste di intervento coiggiungono dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa a parte del personale che aveva ultimato il turno è stato trattenuto in servizio. Tutte le squadre disponibili, compresa Vittoria e Modica stanno operando nell'aria compresa fra Cavadaliga e Scoglitti dove l'intensa pioggia ha causato l'allagamento di strade, case e scantinati. E cambiamo argomento. Stanotte alcuni ladri sono entrati nella chiesa di San Paolo ad Adrano ed hanno rubato un mixer ed aperto il tabernacolo. Sentiamo. Di nuovo nel mirino di alcuni balordi la chiesa di San Paolo ad Adrano nella notte ignoti si sono introdotti nel nuovo edificio religioso prima tendendo di forzare una delle vettate esterne e poi forzando una delle porte che conduce negli uffici parrocchiali. I vandali hanno portato via il mixer della pianola e alcune caramelle poi sparse per terra. Ma l'atto più grave è stato ai danni del nuovo tabernacolo. è stato forzato e fortunatamente non è stata toccata la piscide con l'ostia consacrata. Tanta amarezza ovviamente fra i parrocchiani e padre Ricola Petaria anche perché si tratta del secondo atto di vandalismo ai danni della nuova chiesa di San Paolo di Adrano. Stamattina verso le 12 e mezzo, nemmeno un quarto, mi chiama Carmeluccio, un ragazzo che si dedica lì ai ministranti, eccetera. Per cui si è accorto lui che ci era forzato il tabernacolo e ha visto altre cose, ha controllato e mancava il mixer e mi chiama. E di conseguenza sono andato, chiamiamo la polizia e si sono resi conto di quello che è avvenuto. Avevano lasciato l'arnese, un giravite che si lega, credo, a un trapano. L'hanno lasciato lì insieme alla serratura della porta del tabernacolo proprio nella stanzetta dove c'era il mixer. Ho dimenticato, ho lasciato apposta. Hanno portato anche delle caramelle che stamattina i muratori hanno trovato sparsi nel terreno di Agende il campetto. Quindi sono chiesti come mai queste caramelle qui. e dopo abbiamo collegato le due cose senza sapere il motivo o altro. Hanno aperto il tabernacolo, la piscide non è stata toccata, l'ostia? Allora, le ostie non credo siano state prese perché sono lì, come le avevano lasciate domenica, perché al mattino la messa la facciamo nella chiesa di Santa Maria dell'Udienza. La domenica i funerali e i matrimoni celebriamo nella chiesa nuova. Non credo che abbiano preso qualcosa, anche se hanno rovistato gli armadi sopra un armadio dove tenevamo alcuni quadri molto vecchi, eccetera, eccetera. Lasciate là, anche se non si vedono, per mancanza di spazio. Non credo che abbiano preso altro. La cosa che più mi aveva preoccupato è già il 25 giugno, il giorno in cui abbiamo benedetto il tabernacolo, perché abbiamo trovato la porta forzata. E l'ho collegato immediatamente alla benedizione del tabernacolo. Per cui mi aspettavo una visita del genere che profanassero il tabernacolo. Meno male che non hanno profanato il Santissimo Sacramento. La qualcosa sarebbe stata ancora più grave perché richiede la scomunica immediata, così come è avvenuto il 22 maggio del 2009. Infatti le chiedo, padre Nicola, tutto questo è opere di qualche vandolo, di qualche teppista, di qualche imbecille, oppure dietro c'è qualcos'altro? Guarda, io faccio una riflessione. Dice San Paolo, la nostra lotta non è contro le creature fatte di carne e di sangue, ma contro gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra. Satana si serve dei suoi figli, se così possiamo dire, perché se noi facciamo una riflessione, il male morale Satana non lo fa, lo fanno gli uomini. Gli ordini nucleari li costruiscono gli uomini. Rivolgiamoci appunto a questi uomini o a questi ragazzi, cosa vuole dire loro? Cosa voglio dire? Mi dispiaggia molto per loro, io li benedico, come ho sempre fatto, prego per loro, credo che i parrocchiani hanno pregato anche perché ogni giorno stiamo pregando, abbiamo costituito un gruppo di preghiere, i figli della Consolata, per pregare per tutti i bisogni dei parrocchiani, e non solo dei parrocchiani, ma anche esteso alla Chiesa Universale, e quindi stiamo pregando per loro. Mi dispiaggia perché compiere queste azioni, dopo l'esperienza vissuta, credo che susciti la Santa Iera di Dio e la stessa vendetta di Dio, per cui mi dispiaggia per loro. Io posso pregare, ma credo che Dio per queste cose si arrabbia enormemente. Una due giorni dedicata, sabato e domenica prossima, al recupero dell'antica tradizione dei Cantastorie, a Paternò al piccolo teatro di scena, nella fine settimana il Festival dei Cantastorie, presentato oggi in conferenza stampa. Due giorni, sabato e domenica prossimi, per dar vita al Teatro dei Cantastorie. Paternò, culla dei più bravi Cantastorie d'Italia, dedica, nel fine settimana, ampio spazio ai racconti in canti. Un ricchissimo cartellone con protagonisti, tra gli altri Nono Salamone, Alfonso Gagliardo, Alfio Patti, Carlo Barbera, Cettina Busacca, Orazio Fusto, per un'iniziativa che vede coinvolto il Comune di Paternò, l'Associazione Cettina Busacca e l'Associazione Città Viva. L'anima dell'identità siciliana, l'anima dell'identità paternes, non possiamo perdere questi momenti di cultura. I Cantastorie hanno rappresentato tanto per noi, la famiglia Busacca, la famiglia Renzino, Sant'Angelo e altri. E quindi è una tradizione che dobbiamo, anzi, dobbiamo coltivare, come dicevo prima, questo non è un momento di arrivo, ma un momento di partenza. Questa è la cultura vera, questa è interfacciarsi con la gente, con il popolo, perché è proprio un contatto diretto fra chi racconta e chi ascolta. Io mi ricordo da piccolino, nella famosa Urna, nella Piazza Urna, oppure Piazza Vittorio Veneto, durante le domeniche, durante i momenti di mercato, durante la festa di Santa Barbara, io sarei contento, se per la festa di Santa Barbara, quest'anno ci sarà un cantastorie alla mattina per riprendere questo percorso con la gente, con i più piccoli che forse non possono ricordarsi, ma poi gli può essere trasmesso dai propri genitori. Ecco, questi due momenti sono importanti, anche perché ci sono già dei giovani, veri, Orazio Fusto, che è un nostro giovane paternese, che stanno coltivando quest'arte. Quindi è una cosa che si trasmette, è da questo che dobbiamo ripartire, mai dimenticare la memoria. Il mio sogno si sta realizzando finalmente. Io sono la figlia di Nino Busacca, fratello del grande Ciccio Busacca, e appunto appena lui, mio padre, ha chiuso gli occhi, io mi sono subito messa in movimento, affinché quest'arte non si perdesse. Perché lui dopo il fratello portò avanti. Adesso ci sono io, ho aperto la mia associazione, perché me l'hanno dettato le esigenze, insomma, io voglio portare in giro, anche per le scuole, questo far conoscere il Cantastorie. E questo del festival per me è stato un sogno importante da realizzare, da realizzare veramente... Ho fatto sacrifici, cioè non è stato facile. Però oggi che mi trovo qua in questa stanza, col sindaco, che ringrazio l'amministrazione, un po' tutti quelli che mi hanno collaborato, io sono veramente strafelice. Sentite, sentite, uomini e donne, picciriddi e ranni, venite tutti, il 7 e l'8 d'ottobre del 2017, e 7 e mezza di sera, a Paternò, il festival dei Cantastorie, anima dell'identità siciliane, terra di fuoco, di canto e d'amore. Vi aspettiamo. L'evento presentato questa mattina in conferenza stampa sarà arricchito da eventi collaterali con una mostra fotografica e pittorica, oltre ad un'anteprima dello spettacolo in programma a Palazzo Alessi. E in chiusura il calcio, le termina 0-0 il match di ritorno degli ottavi di Coppa Italia tra Paterno e Biancavilla. I paternesi, in virtù del successo ottenuto all'andata, staccano il pass per i quarti di finale. Sentiamo Davide D'Amico. Nessuna sorpresa ieri sera al Falcone Borsellino. Il paternò pareggia 0-0 col Biancavilla nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza. In virtù del successo per 2-1 all'Orazio Raiti di una settimana fa, stacca il pass per i quarti di finale. Obiettivo raggiunto per la formazione di Marco Coppa che sta crescendo notevolmente sotto il profilo atletico e tattico. Insomma, il paternò è guarito dopo un inizio di stagione complicato. Il tecnico paternese ha trovato soluzioni interessanti sotto tutti i punti di vista per far emergere il potenziale della sua squadra. Un potenziale notevole, aumentato ancora di più con l'ingaggio di Ciarcià. Un lusso autentico per questa categoria. Si è giocato in notturna al Falcone Borsellino e ottima è stata la presenza sugli spalti. Sul campo il match non è stato entusiasmante, soprattutto nel primo tempo. Poche le occasioni da rete, molti invece i cartellini gialli. Il paternò ha spendo sul nascere le velleità di rimonta del Biancavilla, concedendo nulla agli ospiti di Mr. Cacciola, imprigionati dall'ottima disposizione tattica messa in piedi da Mr. Coppa. Nella ripresa il Biancavilla ha provato a creare qualcosa di interessante, rendendosi pericoloso solo una volta dalle parti di Gulisano, mentre il paternò ha sfiorato il gol e del vantaggio con una sassata dalla distanza di Viglianisi. Lo 0-0 non si è schiodato e per il paternò si sono aperte meritatamente le porte dei quarti di finale. Adesso però i ragazzi di Coppa devono pensare al match di domenica in campionato al Falcone Borsellino con l'Atletico Catania. Gara sì scorbutica, ma nettamente alla portata dei paternesi. E con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera. Come sempre vi ricordo la prima delle nostre edizioni in onda alle 20 e poi i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito giacattelesut.com A voi, una buona serata. Grazie a tutti.